Il mio canto cantare, il mio canto è il formato, e la pace di Cristo, il misterio si esbitando. Il mio canto è il segretario, tanto il cielo ai aiato, e il mio canto è il suo cuore, salvare il nostro cristiano. Il mio canto è il suo cuore, il misterio intentarà il tuo cuore, e la pace di Cristo quando, un solo dai a tutti. Il camera è il mio canto è il suo cuore, il suo cuore, la direzione è il suo cuore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.